In diretta da Vinovo Open D'Art Interregionale Nord-Ovest 2022 Accetteremo ora la finale di Serie A singolo tra Beretta Sergio e Bianchi Davide Incontro di singolo Già in pedana Spostate un po' il palo ma si vede lo stesso bersaglio Spostate un po' il palo ma si vede lo stesso Spostate un po' il palo ma si vede lo stesso Spostate un po' il palo ma si vede lo stesso Spostate un po' il palo ma si vede lo stesso dalla stessa maglia, con una della stessa squadra, lo Stabiello e fanno la barba a 3x20 con queste tre frecce con un peso e frigor Safe conservative Cambia t dumped Entra la tripla, 62 però due singoli sull'uno. 155, Davide al tiro, 41 punti, vediamo se recupera Sergio. Entra la tripla con la prima, 99 punti fatti. 117 da chiudere, 97 rimane dopo due frecce. Cerca il 57 e trova il 19, 78 comunque si porta in pressione Sergio. Davide al 82 partirà dal bull, cerca il 42. Adesso mi sarebbe fatta una tripla per andare in chiusura. Non la trova, può correggersi con un 14, 40 su 40. Dientra ancora un 9, 45. 78, occasione per Davide di portarsi in chiusa. E infatti così è, una freccia a doppio 20, alta, tentativo comunque. Cerca un 13 per portarsi in chiusa a 32, ma entra il 4, dovrà sprecare un'altra freccia. C'è, doppio 20 per lui, di poco sotto. C'è, con la prima freccia, il break di Sergio. C'è il volante per termini, spontiano. una mucchiata di prezzo sul 20 non pagano un cento da triplo in un riccio tutto torno mentre invece la tripla per Davide qua 133 bella visita di Davide per Stretton Dreck in questa partita per rimettere le cose alla pari e fino sul 19 che gli ha pagato altri 41 punti circa 50 punti di vantaggio per lui e tripla tripla attenzione 177 fantastico fantastico di Sergio Beretta becca 54 belle queste sei frecce peccato per la chiusa veramente una bella progressione e c'entra il triplo 1 triplo no è il 66 non gli peserisce però Sergio tre frecce per cui darà il doppio 5 entra nelle 5 attenzione molto bassa anche questa forse un pelo affrettata 116 con una tripla potrebbe avvicinarsi bene uno c'è uno doppio adesso occasione veramente ghiotta per Davide per recuperare quel 167 e Sergio gli ha rifilato e la strada giusta obbligata con due tre c'è Ricciotto Burrosso uuuuuh entro un 25 bel tentativo è arrivata comunque alla chiusa e c'è 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 2-0 2-0 campione interregionale abbiamo visto anche questa finale Beretta Sergio campione regionale batte per 2-0 Davide Bianchi un bellissimo 167 visto adesso aspettiamo un attimino la prossima diretta si partirà con le finale a squadre probabilmente forse già la C adesso vediamo Barbara Patero che sta dirigendo un po' tutto il discorso qua da Vinovo cosa manda in diretta cosa ci manda giù va nelle pedale in fondo al palazzetto ci vediamo tra un attimo grazie